Circondato da un parco secolare di 31.000 metri quadrati, tra prati, giardini e piscine, il complesso termale Vescine è un luogo dal fascino impareggiabile, adatto a ospitare eventi esclusivi come il vostro matrimonio, in un contesto dalle atmosfere uniche. Gli interni del complesso presenteranno diversi ambienti in cui ambientare la vostra festa noziale. Un American Bar perfetto per l'aperitivo di benvenuto, due grandi sale interne ed un capiente salone per il cuore dell'evento. Gli esterni vi regaleranno scenografie sorprendenti. L'immenso parco con i suoi giardini in fiore, i deors e le piscine termali sarà una cornice indimenticabile per il vostro banchetto, sia di giorno che di sera. Lo staff del complesso termale Vescine vi garantisce un servizio impeccabile e attento a ogni vostra esigenza. Veri professionisti dell'accoglienza sapranno trasformare il vostro banchetto in un grande successo. La cucina è in grado di soddisfare i gusti di tutti gli ospiti, con proposte che spaziano dai piatti regionali ai sapori etnici e internazionali. Gli chef saranno al vostro servizio per studiare insieme un menù personalizzato, con possibilità di servire portate senza glutine e di accontentare tutte le esigenze alimentari. La struttura dispone di eleganti camere per garantirvi un soggiorno di tutto relax, con soluzioni diverse per ogni esigenza e una lussuosa Junior Suite per gli sposi.